ciao a tutti benvenuti o bentornati qui sul mio canale youtube per chi non mi conoscesse io sono valentina in arte valley makeup lover e qui sul mio canale parliamo di beauty makeup e skin care a 360 gradi prima di iniziare ti ricordo che se vuoi supportarmi puoi lasciare un bel like iscriverti al canale attivare la campanella per essere sempre informato sull'uscita dei nuovi video mi raccomando viene a seguirmi anche sugli altri miei social nel video di oggi creeremo questo look occhi con una palette che trovate su amazon intorno ai 10 euro e sto parlando della palette attraction di lamora direi di non perdere tempo iniziare subito ok eccomi qua ho il look praticamente completo come vedete mi manca solo il look occhi come vedete inizio video proveremo una palettina secondo me super sfiziosa che potete trovare su amazon il costo è veramente basso costa intorno ai 10 euro e sto parlando della attraction palette di lamora questa qui questa palette mi è stata consigliata sia dalla mia amica alex a cui mando un bacione e sia da una di voi grazie vale e ora vi faccio vedere le colorazioni che secondo me sono veramente stupende questo è lo schema colori della palette come vedete sono tutti i toni marroncini alcuni freddi alcuni neutri abbiamo una varietà di shimmer pazzesca inizio prendendo un pennellino da sfumatura e come primo colore prendo sand che questo marroncino qua in alto e lo sfumiamo su tutta la transizione ho messo giusto solo un po di correttore nella palpebra e l'ho fissato sfumiamo il tutto questa palette è presente in tre diverse colorazioni se non erro questa marroncina poi abbiamo quella rosa e se non erro quella berry ora non ricordo bene e hanno tutte un costo irrisorio io ovviamente ora vi parlo di questa perché è l'unica che ho acquistato però mi avete detto che anche le altre sono spaziali tenete presente che a me fa veramente molto piacere ricercare dei prodotti che siano anche alla portata di tutti perché vi capisco bene non è scontato che tutti possano acquistare palette da 80 a 60 euro assolutamente e avere comunque del makeup a un costo accessibile e anche abbastanza performante direi che fa piacere a tutti faccio la stessa cosa anche dall'altra parte così facciamo gli occhi in contemporanea prendo ora un pennellino da sfumatura più piccolino e prendo stone che è quest'altro marroncino più scuro e lo sfumiamo su tutta la parte esterna di modo da dare già tridimensionalità perché poi utilizzeremo il grigio scuro e lo posizioniamo tutto in questa zona cioè guardate la differenza di colore con l'altro marroncino a me piacciono queste palette perché contiene dei colori che possono stare bene a diverse tipologie di pelle come per esempio la mia che è super chiara e soprattutto perché si può utilizzare sia per look da giorno con due colori in croce uno shimmer e magari giusto il marroncino sfumato oppure per look anche un pochino più eleganti e più strong utilizzando tutti i matt quindi io adoro queste palettine poi sul marroncino andiamo sul sicuro e sfumiamo per bene cioè guardate la facilità con cui si sfumano i colori mamma mia bellissima e poi la cosa che mi piace di questo marroncino che non ostante sia comunque abbastanza scuro non macchia fare la formulazione dei marroncini diciamo così scuri e freddini che non macchino è molto difficile però trovo che qua abbiano fatto un ottimo un ottimo lavoro riprendo sand il primo colore e sfumo nuovamente ricordatevi sempre qualsiasi look state realizzando di prendervi il vostro tempo e di sfumare al meglio gli ombretti così avete un effetto un pochino più omogeneo e super super sfumato perché molto dipende anche da come sfumate gli ombretti quindi tanta pazienza e tante sfumature ora prendo un pennellino piatto un pochino più piccolino e prendo dirty che è il grigino di cui vi ho parlato prima che non è un vero e proprio nero ma è un grigio come vedete e lo applichiamo solo sulla parte esterna è un color tortora diciamo e lo applico solo qui ne sfumo verso l'interno di modo che avremo il marroncino chiaro il marroncino un po' più scuro e qua la riga grigia che darà proprio tridimensionalità al look ricordatevi sempre poco prodotto e sfumiamolo piano piano soprattutto quando utilizzate colori così scuri diciamo che non è un nero quindi non avete il pericolo di farvi un macchione però essendo comunque un grigio quindi una tonalità più chiara del nero ci starei sempre attenta e una cosa che mi piace di questa palette fa sicuramente un po' di kick off sulla cialda ve lo mostro vedete che ha un po' di kick off però sul viso la cosa bella è che non spolverano cioè bellissimo poi riprendo nuovamente stone il marroncino intermedio e sfumo questa zona guardate come si fondano bene tra di loro ma non creano un colore unico soprattutto non fanno macchia sono iper sottili bellissimi sfumiamo prendo un po' anche del primo colore ora voglio prendere gli shimmer con le dita e voglio utilizzare summer che è questo diciamo color champagne bellissimo e lo stenderò col dito più che shimmer sono satinati secondo me però si prestano benissimo e lo applichiamo cioè guardate la meraviglia la texture è un po' diciamo non secchina perché non è il termine giusto però è un po' non è super burrosa o super setosa ma questo non fa sì che sia un cattivo colore o una cattiva texture anzi comunque molto carina e per dire che ha dei glitter o si non fa neanche molto fallout quindi per chi si fa la base prima gli occhi dopo questo può andar benissimo prendiamo ora radiant che è questo shimmer qui che è tendente allo champagne lo applichiamo su tutta la parte interna guardate come sbrilluccica anche questo bellissimo in questo modo bello veramente veramente bellissimo lo utilizzo anche qua sotto all'arcata lo sapete io non vivo senza mettere lo shimmer sotto all'arcata sopraccigliare e come tornata con il look completo ho solo aggiunto un po' di matita marroncina sotto l'occhio e ho settato con il grigio e il marroncino intermedio e sono pronta a dirvi che cosa ne penso di questa palettina sicuramente è una palette molto valida si può adattare a qualsiasi tipo di esigenza da chi vuole un look semplice da tutti i giorni oppure chi vuole un look un pochino più sofisticato e più strong perché come vedete con i matt e con gli shimmer abbiamo creato comunque un look abbastanza intenso se avete una matita ovviamente la utilizzate nella rima inferiore o come eyeliner sfumato e poi la settate con gli ombretti stessi direi che comunque la resa è ottima i matt si sfumano bene non fanno macchia neanche più scuri e soprattutto quando li sfumate tra di loro non fanno un patacone unico ma vedete abbiamo tutte le sfumature di colore e anche gli shimmer sono degni di nota e non hanno niente da invidiare anche a marchi un po' più costosi avete varie tonalità di palette che trovate su amazon ripeto se non erro sono tre le tipologie e devo dirvi che per il costo che ha secondo me dovreste provare ad acquistarla perché ha un costo basso un'ottima resa e soprattutto è abbastanza versatile bene fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate mi raccomando non dimenticatevi di lasciare un bel like di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di attivare la campanella per attivare tutte le notifiche anche per oggi è tutto io vi mando un bacio enorme ciao ciao ciao